Signori, ben ritrovati. Lunga pausa, ma questo video era doveroso per ovvi motivi dopo la partita dell'Italia che vince 2-0 in Ungheria alla Pusca Serena con i gol di Raspadori e di Marco. Facciamo poi un discorso approfondito sui giocatori dell'Inter che hanno giocato questa sera. Una partita ben giocata, andiamo alle Final Four. Obiettivamente, ragazzi, la cosa del mondiale, la delusione rimane, non è cancellabile. È purtroppo una macchia indelebile nella nostra storia, successa per la seconda volta consecutiva, però alla fine Mancini io gli posso portare solo del grandissimo rispetto. Un signore del calcio anche nell'intervista alla fine che ha fatto quasi, adesso non commovente per carità, però molto toccante sportivamente secondo me per chi può cogliere queste pillole, queste sentimentali calcistiche sportive dal punto di vista appunto sportivo. Non c'è tanto da dire perché comunque questa è una competizione che lascia un po' il tempo che trova, però ridà morale, ridà morale perché non aver conquistato il mondiale è una perdita immensa, è una perdita inquantificabile, è un amaro in bocca che resterà per tantissimo tempo finché non ci riqualificheremo. Ci consente di andare a testa di serie per gli europei e basta, sinceramente non mi sento di aggiungere altro sull'Italia. Ovviamente questo è un video che non può non prendere in causa l'Inter e quello che sta succedendo, ma di quello che sta succedendo intorno al mondo Inter con la protesta della curva e quant'altro ne parleremo meglio domani. Domani sera penso di fare un video più approfondito. Stasera parliamo di quello che abbiamo visto degli Interisti in campo. Stasera ho visto che a Cerbi diciamo che senza infamia e senza lode si conferma probabilmente una valida alternativa a De Vrij. Nel senso che è il meno peggio, il meno peggio di De Vrij in questo momento a Cerbi, dà più garanzie, quindi secondo me lo vedremo spesso in campo. De Vrij secondo me ormai è un giocatore che con l'Inter ha chiuso, con l'Inter ha chiuso alla grande, secondo me andrà anche via zero perché credo che sia proprio in scadenza nel 2023. E quindi parlo con del grande amaro in bocca perché le cose non stanno andando proprio per il verso giusto. Ci sono tante cose negative intorno alla nostra squadra e si parte appunto dalle fondamenta, quindi dal livello societario. Non tira una bella aria per niente. Ripeto ne parliamo più approfonditamente domani però credo che stiamo andando verso il non ritorno o la proprietà cede o non vedo veramente un futuro eroseo per questa squadra. Se non che sia già stata ceduta. Però ripeto ne parliamo meglio domani. Quindi su a Cerbi mi sono espresso. Bastoni è entrato dopo e ha causato praticamente un rigore che si poteva dare perché mi tocca questa volta dare ragione al commentatore della Rai. Perché si spinge un po' l'attaccante. Adam forse lo tocca anche con... lo tocca nel tallone facendolo cadere con la... toccandolo con la scarpa, col piede. Hanno deciso di non dare questo rigore. Meglio così. Ma Bastoni secondo me è in una fase brutta. È una fase in un momento non di forma. E quindi... secondo me è gran parte colpa dell'involuzione che gli sta dando in zaghi all'Inter ed è colpa della sua involuzione, colpa del momento generale che c'è all'Inter. E... aveva fatto due belle partite che sembrava che potesse recuperare dopo l'inizio negativo di inizio stagione. Scusate la ripetizione. È così insomma. Barella si conferma... si conferma quello che può dare veramente la svolta. Diciamo che è abbastanza in forma. È un giocatore che... Insomma, non si può discutere Barella. Ho detto anche nell'ultimo video contro l'Udinese. Chi non l'ha visto se lo vado anche a vedere. Ormai otto giorni fa. Quindi Barella si conferma. Si conferma quello che... È sempre stato il mio punto di vista. Non è certo in una forma idiliaca neanche lui. Che secondo me poi dopo... Si può parlare anche approfonditamente della preparazione atletica che ha avuto l'Inter senza Pintus. Infatti si è rotto anche Brozovic. Ma ripeto, domani approfondiamo meglio. Barella, Di Marco, migliore in campo. Simone, te stasera io spero che Inzaghi abbia visto la partita. L'avrà vista sicuramente. Di Marco, sai dove deve giocare? Deve giocare esterno-sinistro. Lo sai perché? Perché sa fare a proporsi e sa fare a crossare. È quello che deve fare. Ogni tanto anche andare al tiro. Non può fare il centrale di difesa. Siccome Mancini è un po' più avanti mentalmente sotto il punto di vista tattico rispetto a te. Perché Mancini è un allenatore di calcio. Tu in questo momento stai facendo tutt'altro. Tu stai facendo il buffone. Tu stai facendo il buffone. Poi Mancini ha anche le palle quadrate. Quelle che non hai tu. E Barella, e Barella su a te Di Marco, deve giocare esterno-sinistro. Di Marco nasce terzino-sinistro o esterno-sinistro. Di centrocampo. Può fare l'esterno-sinistro di centrocampo. Non ci sono se, non ci sono ma. Cioè, la semplicità, spesso e volentieri, vince. La semplicità cosa vuol dire? Mettere i giocatori nel loro ruolo. Cioè, non è una cosa così impossibile. Non stiamo cercando di fare, di trovare formule matematiche, di risolvere teoremi, di trovare la teoria delle stringhe. Simone, però un po' di testa va là, che già al momento non è buono. Se andiamo avanti così, anche su quel punto di vista, siamo fregati, siamo rovinati. E basta. Quelli dell'Inter che hanno giocato questa sera sono questi. Raspadori in una forma strepitosa. Comunque un giocatore che avrei voluto fortemente all'Inter. Sinceramente non ho nient'altro da raggiungere. Adesso c'è la Roma. Adesso c'è un mese proprio al bacio delicato. Il mese del mio compleanno, ottobre. Dove abbiamo la Roma. Sì, perché sabato è già ottobre. Poi c'è il Barcellona. Poi c'è il Sossuolo. Poi c'è il Barcellona ancora. Signore, io la vedo grigia, eh. Però, vabbè. Godiamoci sta vittoria di stasera. E adesso il nazionale se ne riparlerà... Vabbè, ovviamente a dicembre, ma a noi non ci interessa. Purtroppo. E la Nations League tornerà a giugno. E vabbè. Mancini, vero signore del calcio. E anche quando era all'Inter, secondo me, ha sempre avuto la stoffa per essere un allenatore da Inter. E quando è tornato per il suo bis, era in una situazione che la squadra era quello che era. E in una situazione come quella di adesso, dove la quarta va in Champions, Mancini ci avrebbe anche riportato in Champions. Ma all'epoca la quarta andava direttamente ai gironi di Europa League. Forza Italia, Forza Mancini, vero signore del calcio. Inzaghi, prendi spunto perché tu stai facendo solamente il buffone. Iscrivetevi, commentate, ditemi la vostra. Sempre Forza Inter e Forza Italia.